Meno male che tu hai la macchina, Mochi. Non hai idea di quanto sia scomodo affidarsi ai trasporti pubblici. Cioè, tecnicamente siamo a Tokyo e dovremmo avere i treni e gli autobus più in orario ed efficienti del mondo, però invece basta un attacco Villein per mandare tutto in malora. L'altro giorno hanno bloccato il mio treno per questo motivo. Certa gente ha cose importanti da fare. Tipo guardare Takashi e Sakura baciarsi. Volevo tornare dormitori. E temevo che non avrebbero funzionato anche oggi. Sarebbe stato complicato poi trovarci al nostro punto d'incontro per questo... Appuntamento. Sono contenta di averti potuto vedere oggi. Ogni tanto mi manca proprio passare del tempo insieme. E tu sei sempre così gentile nell'organizzare queste uscite per noi due. Ti devo ringraziare davvero. È ancora difficile da realizzare. Il fatto che posso baciarti, intendo. I tuoi voci sono così gentili e divertenti. Così mi farà imbarazzare. Aspetta, aspetta. Solo un attimino, per favore. Voglio... Ho visto una cosa carina in quella vetrina e voglio dargli un'occhiata. Vabbè, sì. Che c'entra che non me lo posso permettere? Fammi sognare. Lo sai come sono. Ammiro da lontano. Non rubo, giuro. Non... Stavolta. Che intendi? Per favore, qualcosa per cui non bisogna spendere troppo. Quindi, fammi vedere se ho capito bene quello che intendi. Scegliamo insieme un budget... Immaginario, sì. Beh, Mochi, sarebbe stato difficile se fosse stato reale. Sarebbe stato tipo 400 yen. Quindi, scegliamo un budget fittizio per ogni round e cerchiamo degli oggetti nelle vetrine che vorremmo regalarci a vicenda con questo budget. Wow, ma sei un genio! Suona divertentissimo! Sì, per favore. Grazie di avermelo proposto. Allora, vediamo. Quanto mettiamo per il primo turno? Ok. Quindi adesso iniziamo a cercare. Ma... Dobbiamo separarci. Non mi va molto di separarci, dato che volevo tanto vederti. Oh, d'accordo, entriamo nei negozi insieme. Quindi, ti andrebbe di iniziare da questo? Ma aspetta, così non vale. Tu hai già visto quello che stavo guardando e mi interessava. Sapresti già cosa scegliere. Ah, è per questo che hai proposto il budget adatto proprio per prenderlo. Sei una canaglia. No, no, così non va bene. Sei incorreggibile, mochi! Uffa! Allora così mi lasci giocare da solo al primo round. Beh, allora farò meglio a trovare il regalo perfettissimo per te. Tu... Non so se voglio avere dei suggerimenti da te. Non penso, no! Niente suggerimenti. Voglio cavarmela da sola. In fondo, quanto può essere difficile, ti conosco da una vita. Sarà come bere un bicchiere d'acqua. Gratis! Tu 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 tu... Vediamo qui... Questa camicia ti starebbe così bene. Ma so che non ti piace questo tessuto, quindi niente. Questo? Carino, ma troppo chic. Non si addice al tuo stile. Ah, quella maglia sembra di un colore carino. Fammi vedere. Oh, la stessa cammineta! Che schifo! Assolutamente no. Non voglio rischiare che ti si attacchi per osmosi cosmica a qualsiasi cosa lui abbia. Allontanati, non voglio vomitarti addosso. Non mi prendere in giro. Non voglio neanche più pensarci all'idea di essere fidanzato con qualcuno come lui. Cerca sempre di farsi notare il più possibile quando cammina per i corridoi. Dice roba tipo Ciao a tutti! È una bellissima giornata, non trovate? E... State calmi, miei bei manzi. Buon per lui che è uscito dall'armadio. Finché non è il mio armadio va tutto bene. Almeno lui ci crede. Non dovrebbe ma lo fa. Va bene così. Andiamo avanti. Se devo essere onesta con te, volevo comprarti da un po' un portachiavi per le chiavi della tua bella macchina. Dato che continui a perderle continuamente. Ormai non riesco più a contare quante volte ho dovuto aiutarti a ritrovarle in camera mia. Magari sarebbe adatto uno di quelli che fanno tipo le luci e i suoni con un'app del telefono. Andiamo a vedere se ci sono. Oh! Oh! Ma che fortuna davvero! Qui hanno esattamente quello che ho appena descritto. Pare un gioco del destino. Come se tutto fosse... Scritto. Da entità superiori. Ma è appena fuori dal budget! Uffa! Possiamo fare una piccola modifica! Ma che ingiustizia! E va bene. Allora ti comprerei quel berretto là. Starebbe bene con i tuoi capelli secondo me. Però che cattiveria. Per il prossimo turno che budget vogliamo fare? Un po' più alto? Ok. Mi pare ottimo. Allora con questo turno io ti prendo il portachiavi. Eh no! Non è mai stato detto che i turni andavano fatti in negozi diversi. Io ho già scelto. Tocca a te! Ma se vuoi cambiare negozio va più che bene. Quello lì! Oh! E cosa hai adocchiato dalla sua vetrina? Vedo dei quanti. Ma di quali ne ho a bizzeffe? Sono tutti accessori carini però. Chissà a quale hai pensato. E poi con una somma davvero alta. Dimmi, 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 dimmi! Un libro per ricette economiche! Guarda quante pagine! Deve contenere un sacco di cose buone! Oddio sì, mi piacerebbe tantissimo. Probabilmente tutte le ricette dentro, tutte quante insieme, costano quanto il libro stesso. Io lo vedo come un attimo a fare in casa. A casa nostra avremo sicuramente un libro del genere e ogni settimana proverò a fare qualcosa di buono. Beh, ci proverò! Ma voglio diventare davvero bravissima. Così che potrò soddisfare sempre ogni tuo languorino. Voglio essere una mo... Fidanzata perfetta per te, fidanzata! Ok, ora tocca a me. Ed io cambierò negozio. Oh, sì, il budget! Sì, mi pare adatto. Vediamo. Poco fa sono riuscita a vedere, da quella parte, un set di piatti e ciotole di ramen. Qualcosa di stiloso, un po' fancy. Potremmo metterci dentro tantissime prelibatezze. Quelle cucinate grazie al libro di ricette che mi compreresti. Sarebbe tutto in tema, con delle bellissime decorazioni. Aggiungerebbe solamente più gusto a ciò che mangiamo. Sì, lo so che non è un regalo mirato solamente a te, ma penso che sarebbe una bella cosa per entrambi noi. E io che mi preoccupavo del fatto che magari stessi pensando già troppo in là. È che ultimamente mi sento così felice a mio agio con te che non riesco a non pensarci. Non vedo l'ora di avere una casa dove vivere insieme, Mochi. Sono sicura che ci divertiremo tantissimo. Ora continuiamo. Hai già pensato a... Oh, li hai visti prima tu! Volevi sceglierli tu come prossimo regalo? Oh, no, 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 no! Se li hai visti prima tu, puoi farlo tu. Io troverò altro. È solo... Che mi sembrava davvero carino. Penso che ti starebbe molto bene, onestamente. Sì, ha quella forma particolare che... Beh, in realtà è molto semplice, ma mi piace solo perché... Un po' ricorda noi. Siamo delle persone semplici e ci assomigliamo tanto, ma insieme riusciamo a distinguerci da tutti gli altri. Come questi bracciali. E... Beh, sono anche dei nostri colori preferiti. Sembra quasi un altro segno del destino. Sai cosa? So che stavamo giocando, ma... Ti anticipo sulla scelta e scelgo questo. E farò di più. Te lo prendo davvero. Fammi vedere quanti soldini ho nel portafoglio. No! Mi sembra perfetto per te, quindi voglio farlo. So che forse dovrei risparmiarli, ma ho davvero voglia di farlo. Per favore, non contrastarmi. Permettimi di farlo, almeno questa volta. Poi non lo farò più, sin quando non guadagneremo molto, ma ti prego, voglio farlo per te. Non posso prenderti tutti i regali che ho pensato prima per te durante il gioco. Quindi, se non potessi prenderti neanche questo, ti giuro che mi sentirei davvero male. Oh, certamente, quale sarebbe? Sono pronta a combattere pure un grizzly per farlo. Lo farei arrivare fino alla luna. Davvero? Vuoi prenderne uno anche a me? Ma li hai i soldini? Allora, allora a me va benissimo. Io prendo quello del tuo colore preferito, mentre tu del mio. Almeno, quando li guarderemo, riusciremo sempre a pensare a noi. Però sarò io quella a prenderla per prima. Fai spazio, moci! Ehi! Ehi, che fai? E dai, non metterti in mezzo! Fammi passare! Passare! Guarda che se volessi ti potrei far volare fino al soffitto e non scenderesti più da lì finché non decido io! Scusi, potrei avere quel bracciale lì in vetrina? Certamente, fanno 2500 yen. Ecco lei! Sì, dovrebbero essere tutti. Sì, perfetto, ed ecco lei il bracciale. Grazie mille! Evviva! L'ho presa per prima! Ora tocca a te, dai, dai! Vuole comprare anche lei il bracciale? Certo, la stessa cifra. Grazie. Wow, queste banconotte sembrano vecchie di dieci anni. Da quanto tempo le avevo? Vanno bene? Buona giornata! Mochi, questo è per te. È un regalo per te, comprato con i miei soldini? Sì, dai, non ridere! Fammi vivere questa scena! Dicevo, questo è un regalo per te. Il primo di tanti che ti farò in futuro, quando avrò una paga stabile. Non vedo già l'ora di viziarti con tante altre sorpresine, ma per ora spero tu possa essere tanto felice di questo bracciale. Ti voglio un mondo di pene, Mochi! Ti sto benissimo, in effetti. Non pensavo che il mio colore potesse starti così bene addosso. Forse dovrei farti provare anche dei miei vestiti. Chissà come staresti con il mio costume da hero. Sarebbe molto interessante, ma ci pensiamo dopo. Così mi fai arrossire. Lo sai quanto divento rossa quando inizi a parlare in questo modo. Fai apposta, eh? Grazie, Mochi. È davvero un bellissimo dono. Lo terrò sempre con me. Che bello appuntamento che stiamo avendo. Mi sento al settimo cielo. Ho il viso tutto caldo. Sembra quasi che siamo in uno scioggio. Come quei manga che leggevo nella libreria delle medie. Ti ricordi? Quella gratuita dove gli studenti potevano mettere i propri libri e condividerli con gli altri. Io, purtroppo, non avevo niente da condividere. Ma almeno leggevo quello che gli altri mettevano a disposizione. Mi ricordo che una volta c'eri anche tu, Mochi. Eravamo fianco a fianco a leggere quelle pagine. A pensarci ora non avrei mai scommesso che ci saremmo ritrovati come i protagonisti di quelle scene. Beh, devo dire che però quello che sto vivendo in questo momento non ha niente a che vedere con quelle fantasie che provavo allora. Magari prima desideravo sentirmi come una principessa, ma con te, Mochi, io mi sento come una regina. Ehi, i soldi arriveranno! Non sono quelli che mi rendono tale! Credo. Forse è una caratteristica determinante. Fa nulla. Per me, quello che importa è tutta la felicità che mi porti e l'orgoglio che ho nel poterti stare accanto. Sua maestà, può rialzarci, non si preoccupi. Anzi, ho bisogno che lei porti il suo volto più vicino al mio. Devo darle un grande dono regale. Chissà se a chi ci guarda dall'esterno viene il diabete per quanto siamo dolci. Ma a me piace. Tanto. Sono felice di poter essere sia la tua ragazza che la tua migliore amica. Così posso alternare momenti divertenti a questi momenti da sogno, così romantici. Mi sento davvero... Leggera. Oh no! Ci ho toccati! Aspetta, ci faccio tornare giù! Stavamo per volare in aria! Fortuna che me ne sono accorta in tempo. Ero troppo presa da... Bette. Grazie anche di aver giocato con me. Quel gioco è molto simpatico. Mi piace pensare già alla nostra vita futura. A te non dà fastidio, giusto? Meno male! Allora continuerò a fanghirlare su noi due come facevo al tempo con i protagonisti di Toradora. Sì, quell'anime di quasi più di trent'anni fa! Un giorno mi piacerebbe comprare la serie a manga, ma anche l'anime è molto carina. Ok! Penso sia ora di rientrare. Anche perché ora sono un sacco ispirata e voglio davvero tantissimo provare a fare una ricetta per la cena di stasera. Resti a casa mia tanto, giusto? Ehi, perfetta! Ho giusto un paio di avanzi che sarebbero perfetti per un risotto con i fiocchi. Ah, ma prima potremmo fare una piccola deviazione. Vorrei andare a trovare i muratori del cantiere dell'altra volta. È da una settimana che non ci torno, quindi vorrei andare a fargli visita. A te va bene. Ok, allora andiamo. Ojiro mi ha raccontato che Agakure ha fatto un sogno davvero, beh, terrificante. Dice di aver sognato Mineta che ci provava con lei e tutti sembravano innamoratissimi di lui, sia gli studenti che gli insegnanti. Fatto sta che da quando ha fatto questo sogno non si è più vista. Ho fatto la battuta! Eccoci, vedo il cantiere! Oh, sono andati avanti dall'ultima volta! Hanno fatto l'area est di con i mini! Vedi, ci stanno anche dei terrazzini, sono stati bravi! Ora vado a fargli i complimenti! Vuoi venire anche tu? A me farebbe piacere! Ok, allora seguimi e fai attenzione per terra. Potrebbero esserci sassi appuntiti, non voglio tu ti faccia male. Guardate chi c'è, ragazzi! Tutti in pausa! È arrivato il capocantiere! Guarda chi si vede! Evviva, mi mancava! Che bala! Oh, e dai, non c'è bisogno che mi chiamate in questo modo! Ciao a tutti! Come state oggi? Tutto bene, siamo sempre molto felici di rivederti! Qui i lavori stanno andando a gonfie vele! Come vedi, siamo riusciti a finire... L'area est, ho visto! Effettivamente siete andati molto veloci! Lo riuscivo a notare già per strada! Hai proprio occhio, capocantiere! Ti stupisci nel perché ti chiamiamo così? Tu probabilmente sei ancora più formata che la maggior parte di tutti noi! Oh, e dai, non faccia così! Mi sono solo appassionata al vostro lavoro! E poi i manuali che mi avete regalato sono sicuramente più interessanti di qualsiasi libro mi abbiano mai dato a scuola! Sono delle belle letture e riesco a capire cosa state facendo quando vengo a trovarvi! A proposito, volevo salutare anche Ren! È qui o oggi non lavora? Oh, Ren! Sì, ricordo di lui! È quello che hai salvato! Ci mancherà tanto! No, aspetta cosa! Che gli è successo? Sto male! No, lo stronzo ha vinto la lotteria! Ora è milionario! Oddio, meno male! Aspetta, milionario! Wow! Certo che è stato davvero fortunato! E ora... Non lavora più qui adesso! Ha dato le dimissioni l'altro ieri e non sappiamo bene come rimpiazzarlo! Lui aveva un ruolo fondamentale qui! Era il più forte di tutti noi! E infatti ora si vede la sua mancanza! Abbiamo rallentato i lavori di tantissimo! Oh, mi dispiace tanto! Cioè, per voi, non per lui! Lui è stato sculato! Ma voi ne avete risentito molto! Vorrei tanto potervi aiutare! Beh... Perché non puoi? Chi te lo impedisce? Oh, beh! È solo che... Nel senso... Io... In effetti... Già, perché non posso? Così, alla fine io... Potrei venire a lavorare qui! E poi ho praticamente finito la I.O.A. Mi rimangono solamente una manciata di mesi! Io... Io posso! Anzi, potrei! Lei che ne dice? Oh, noi saremmo felicissimi di prenderti a lavorare qui! E a parte che sei molto preparata, ma il tuo queer che sarebbe davvero molto utile! Sembra essere fatto apposta! E insieme diventeremmo la ditta edile più gettonata e produttiva di tutto il Giappone! Oh, sarebbe fantastico! Ma non saprei! In teoria non è legale utilizzare il proprio queer che se non... Se non si ha una licenza! Cosa che te, Uraviti, avrai fra poco! Non è vero? Oh, Cinerbolina! Ha ragione! E poi potremmo richiederne anche una specifica per questo lavoro, visto il mio passato! E... E potrei lavorare qui invece che fare qualcosa che non voglio! Non nevo per forza andare a fare la hero! Posso... Ma... Posso davvero? Noi non ti costringiamo, ovviamente! Ma penso proprio che questa potrebbe essere una grande opportunità per te! E per noi, non lo nascondo! E poi, tutti ti vogliono bene qui! Non è vero, ragazzi? Sì! Ti adoriamo! Ti amo, Ciccato! Sei immobile! Io... Mochi... Io un'idea ce l'avrei, ma non sono sicura! È una cosa molto importante e... Davvero grande! Secondo te, cosa dovrei fare? Dovrei accettare! Grazie! Oh, grazie, Mochi! Grazie mille, amore mio! Grazie, grazie, grazie! Mi sento così sollevata, ora che anche tu mi hai detto di farlo! Ti amo davvero tantissimo! Sì, io accetto! Verrò a lavorare con voi! Oh, ma questa è un'ottima notizia! A nome di tutti noi, ti ringrazio e ti do il benvenuto nella nostra compagnia! Oh, Ciacco! La nuova capocantiere! Oh, e dai, non direttamente capocantiere! No, ma potresti facilmente diventarlo! Ok, intanto io ti preparo il contratto, ma per ora non ci pensiamo, anzi, festeggiamo! Ehi ragazzi, tutti in pausa speciale! Andiamo da Gesùè a festeggiare! Birra per tutti! Oh, non c'è bisogno di... Soprattutto Ciacco, a lei glielo offriamo una ciascuno! Accetto volentieri, festeggiamo ragazzi! Vieni anche tu, Mochi! Ti offro metà, un quarto, un po' delle mie birre! E grazie di avermi supportata! Ti amo tantissimo! Vieni qui! Soprattutto Ciacco, a lei glielo offriamo!